Benvenuti in questo nuovo video sulle disequazioni, nello specifico vedremo sistemi di disequazioni. Dopo aver visto le disequazioni di secondo grado, comprese quelle fratte, vediamo come risolvere i sistemi di disequazioni. In realtà la procedura è molto semplice, si segue quanto già noto per quanto riguarda i sistemi di disequazioni con disequazioni di primo grado, perciò si risolve ogni disequazione, si disegna uno schema grafico con gli insiemi delle soluzioni delle disequazioni, si determina l'intersezione di tutti gli insiemi delle soluzioni. Pertanto la procedura è sempre la solita, ma qui avendo nel sistema la possibilità di avere delle disequazioni di secondo grado oppure disequazioni fratte, la soluzione diventa un po' più lunga perché aumenta il livello di complessità. Ma noi non ci facciamo spaventare e vediamo subito degli esempi. Abbiamo un sistema con due disequazioni di secondo grado, risolviamo la prima. Si vede abbastanza facilmente che questo è il quadrato di x più 1, perciò abbiamo x più 1 al quadrato maggiore di 0. Essendo un quadrato è sempre positivo oppure nullo, perciò quando è che questo è maggiore di 0? Per tutti i valori tranne quell'unico valore che annulla questa parentesi. L'unico valore che rende nulla questa parentesi chiaramente è meno 1, perciò questa disequazione è verificata per tutti i valori tranne meno 1. Per la seconda possiamo raccogliere la x e otteniamo questa disequazione. Le soluzioni dell'equazione associata sono x uguale a 0, x uguale a 8. Sto saltando dei passaggi per fare più velocemente, è chiaro che qui bisognerebbe scrivere l'equazione associata, far vedere le soluzioni e poi tornare alla disequazione. Nel momento in cui io ho le soluzioni dell'equazione associata vado a vedere il verso della disequazione di partenza c'è un minore uguale, perciò scriverò, dal momento che qui c'è il minore, che la soluzione di questa disequazione è data da quei valori di x compresi tra 0 e 8 estremi inclusi. Ho risolto le due disequazioni, ora vado a fare lo schema grafico, quindi vado a intersecare queste due soluzioni. La prima è molto semplice perché posso accettare tutti i valori tranne meno 1, per la seconda vado ad accettare solo i valori compresi tra 0 e 8. Pertanto qual è l'intervallo comune, quindi l'intersezione? Questo. Devo prendere questo intervallo. La soluzione di questo sistema dovrà ricadere in questo intervallo. Ora vi faccio notare una cosa, non spaventatevi quando vi trovate di fronte un sistema con tre disequazioni, bisogna sempre analizzare con calma. La prima disequazione ci dice x al quadrato minore di 0, ma un numero elevato al quadrato, come sappiamo, è sempre maggiore o uguale a 0, per cui questa prima disequazione è impossibile. Ma dal momento che il sistema è l'intersezione delle soluzioni delle tre disequazioni, se già una è impossibile, va da sé che tutto il sistema sarà impossibile. Quindi qual è la soluzione di questo sistema? Niente, l'insieme è vuoto. Anche qui abbiamo una disequazione che ci facilita la vita, perché guardiamo la seconda che è più facile da vedere subito. x alla seconda maggiore di meno 1. Ma naturalmente, per lo stesso discorso fatto in precedenza, qui abbiamo un numero al quadrato che è sempre maggiore o uguale di 0, a maggior ragione sarà maggiore di meno 1. Quindi questa è sempre verificata per ogni x reale. Perciò tutto dipende dalla prima disequazione. Non dovremo neanche fare lo schema grafico della risoluzione del sistema, perché tanto questa non incide, dal momento che è sempre verificata. Dipenderà tutto da questa disequazione. È una disequazione fratta in cui il numeratore è maggiore di 0 quando, dal momento che l'equazione è associata a come soluzioni più 1 e meno 1 e la disequazione è maggiore di 0, avrà soluzione quando x è minore o uguale di meno 1 o maggiore o uguale di 1. Spero che non ci siano problemi nel risolvere queste semplici disequazioni di secondo grado. Per quanto riguarda il denominatore è maggiore di 0 quando è maggiore di 0, x, naturalmente qui non ho incluso lo 0 perché questa frazione esiste se x è diverso da 0 e questo dobbiamo tenerne conto e ne teniamo conto qui facendo lo studio del segno. Vado a mettere nello schema grafico, attenzione, questo è lo schema grafico della disequazione fratta, non è lo schema grafico del sistema. Lo schema grafico della disequazione fratta è lo schema dei segni, quindi qui abbiamo più e qui abbiamo più, mentre per quanto riguarda la seconda abbiamo questo risultato per quanto riguarda i segni. Più e meno, meno e meno, più e meno, più e più, ci sta chiedendo dov'è che è maggiore uguale a 0, ricordiamoci di includere questi due valori, perciò abbiamo meno 1 minore uguale di x minore di 0, lo 0 va escluso, oppure x maggiore uguale di 1 e questa è anche la soluzione del sistema, ripeto perché? Perché la seconda disequazione del sistema ha soluzione per ogni x appartenente a r. Se non avessimo avuto questa soluzione per la seconda disequazione si andava a fare lo schema grafico questa volta per determinare l'intersezione delle soluzioni. Infine vediamo questo sistema. La seconda disequazione è immediata, è una disequazione di primo grado che ci dà x maggiore uguale 2. Vediamo la prima, abbiamo una disequazione fratta, studiamo il numeratore che è facile, il denominatore quando è che è maggiore di 0? Non mettiamo maggiore uguale, mettiamo maggiore così escludiamo il caso in cui il denominatore si annulla. L'equazione associata, la scrivo qui, è x che moltiplica x meno 3 uguale 0 che ci dà come soluzioni 0 e 3. Torniamo alla disequazione che vuole il maggiore di 0, perciò x minore di 0 oppure x maggiore di 3. Qui dobbiamo fare lo schema dei segni per quanto riguarda la disequazione fratta. Per il numeratore abbiamo x maggiore di 0, per il denominatore abbiamo il segno positivo qui e qui e dobbiamo escludere sia lo 0 che il 3 perché annullerebbero il denominatore. Regola dei segni, abbiamo x maggiore di 3. Mettiamo insieme ora le cose, dobbiamo fare lo schema grafico per la risoluzione del sistema, cerchiamo l'intersezione tra la soluzione che abbiamo appena trovato x maggiore di 3 e la soluzione della seconda disequazione che era x maggiore uguale a 2 e vediamo che come soluzione abbiamo questo intervallo che è x maggiore di 3 e questa è la soluzione del sistema di partenza. Ragazzi lasciare un like non vi costa nulla, iscrivervi al canale se non l'avete fatto può esservi utile. Io spero che questo video vi sia stato utile, vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Ciao!